In questa puntata di Super Easy Italian parliamo della faccia. Ma cosa abbiamo in faccia? Beh... Il viso o la faccia. Matteo, scusa, ma chi è? Questo è Antonio. Si è reso disponibile per le spiegazioni del viso. Non si vede molto bene. Ciao Antonio, ma non ha le orecchie, nemmeno i capelli. Va bene, va bene, va bene. Ok, ok. Grazie, scusa Antonio. Ci sentiamo. Grazie per la disponibilità. Sì. Vediamo più da vicino la faccia di Matteo. I capelli. L'occhio. Gli occhi. Il naso. La guancia. Le guance. La bocca. La lingua. Il dente. I denti. I baffi. La barba. Il collo. In italiano i capelli sono plurale. I capelli. I capelli. I capelli. Un capello. I capelli. I capelli. Hai fatto cadere Antonio. Hai fatto cadere Antonio. Gli occhi. Diciamo gli perché usiamo gli prima di un plurale maschile che inizia con una vocale. come occhi. Gli occhi. Siete pronti? Adesso arrivano i problemi. Il labbro. Le labbra. Il sopracciglio. Le sopracciglia. Il ciglio. Le ciglia. Si dice il labbro, singolare, ma il plurale qual è? Le labbra. Si. Quindi, singolare, maschile, il labbro, plurale, femminile, le labbra. Ma è ancora più irregolare perché non diciamo le labbre, finisce in A. Le labbra. Il labbro. Le labbra. Confonde un po', ma ci sono altre parti del corpo che seguono la stessa regola. In faccia abbiamo Il ciglio. Il plurale. Le ciglia. Il sopracciglio. Uno. Le sopracciglia. Due. Parliamo della faccia, ma è utile sapere che si dice il braccio. Il plurale. E il plurale. E il plurale. E il plurale. Le braccia. Il ginocchio. No, non ce la faccio. Le ginocchia. Le ginocchia. Il dito. Le dita. Per fortuna, tutte seguono la stessa regola. Ma per complicare ancora di più, ovviamente, c'è una parte della faccia che non segue questa regola. L'orecchio, perché l'orecchio, uno, le orecchie, due. Quindi, singolare maschile, l'orecchio, plurale femminile, le orecchie. Ma questa volta finisce in E, come dovrebbe essere. Sì. L'orecchio. Le orecchie. Il volto, il viso e la faccia sono la stessa cosa in italiano. Ma qual è la differenza? E perché usiamo la faccia o il viso o il volto? Beh, non ve lo posso dire. In pratica, la differenza è la formalità. Ma quando usare queste parole? Lo potete scoprire con noi negli esercizi e nel materiale che ogni settimana prepariamo per la nostra comunità. Assieme agli esercizi ci sono anche video con e senza sottotitoli, audio lento e veloce e vocabolario, cruciverba e accesso al Grammar Bank. Una grande banca dati di regole e piccoli esercizi, tutti basati sulle nostre puntate. Per sapere come far parte della nostra comunità, il link è in descrizione. Se già sapete tutte queste parole e non siete andati via, passiamo alla versione della faccia per professionisti. Vediamo un paio di parole avanzate. Il naso è formato da due narici, quindi la narice, le narici, la palpebra, le palpebre, quelle che si muovono. E poi nell'occhio c'è la pupilla e l'iride. E qual è la pupilla e qual è l'iride? La pupilla è la parte nera, il buco. È un buco, penso. Non entriamo troppo nei dettagli anatomici, insegniamo l'italiano. E l'iride è la parte colorata, poi c'è il bianco dell'occhio. Che si chiama? Il bianco. Come l'uovo? Il bianco dell'uovo e il bianco dell'occhio? No, sì. Penso. Beh, sicuramente c'è un nome scientifico che noi non conosciamo, ma questo è per i medici. Sì. Per i pro-pro-pro-pro-professionisti. Le papille gustative. Urca. Che sono? Sulla lingua. Poi, vabbè, mi fermerei lì, perché poi possiamo scendere, c'è tutto. I pori. Sì. Le lentiggini. Le lentiggini? Le lentiggini sono... A volte ci sono. Qui no. No. Tu nemmeno. No. Ma sono una particolarità del viso. Sono i puntini sulla pelle. E poi... Basta. Direi basta. Basta. La prossima volta, quindi vi aspettiamo o vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Scopriamo il corpo umano con Easy Italian. E voi? Quale parte della faccia vi piace di più? E perché? Scrivetecelo nei commenti. Ciao. 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 Grazie per la visione!